Grazie Ecco cosa hai fatto Si, quando ti trovi l'acqua non c'è sopra il riso acqua, sopra, acciutto già sopra, subito basta il fuoco o mette il coperto? Eh ma devi stare mescolando in direzione, non attacca No, 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 solo basta il fuoco sopra Lascialo così, vuole 5 minuti Vai Adesso andiamo a prendere l'acqua per mattia, va bene? Fuori l'acqua Adesso andiamo a prendere l'acqua Adesso andiamo a prendere l'acqua Sexy Adesso andiamo a prendere l'acqua 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 Eunch un po' Adesso e prendere l'acqua Grazie a tutti. Grazie a tutti.